Questa mattina in conferenza stampa si è parlato di edilizia scolastica, le proposte del Partito Democratico, a chi sono rivolte? Le proposte sono rivolte all'amministrazione comunale e anche alla provincia. Ieri, su iniziativa della consigliera Catalano e tutta l'opposizione di centro-sinistra, abbiamo proposto una mozione al Consiglio Comunale che per fortuna è stata approvata, perché si attivi subito un tavolo tecnico tra comune e provincia che coinvolga le scuole per vedere quali sono i progetti da presentare, le schede progettuali da presentare, per non perdere la grande opportunità dei bandi che il Ministero di Istruzione ha appena pubblicato per la riqualificazione e la realizzazione di nuove scuole. Noi troviamo che su questo si sia in grande ritardo, è un forte limite dell'amministrazione comunale e anche purtroppo della provincia che purtroppo è da mesi senza governo, poiché proprio l'occasione del PNRR e noi sosteniamo connesso anche al tema della nuova Pescara darebbe la possibilità davvero di realizzare nuovi poli scolastici e liceali per far fronte da un lato al bisogno che c'è di spazi ma anche di realizzazione di istituti che possano dare quelle opportunità di didattica innovativa che sono molto spesso sempre più legati allo spazio in cui si svolge l'azione educante. Su questo c'è bisogno di visione, c'è bisogno di progettualità, ci sembra invece che soprattutto nell'amministrazione comunale poi nella provincia ci sia un approccio piuttosto tradizionale di cercare di vedere come sistemare negli spazi che esistono ma qui non è un'operazione di maquillage, qui bisogna concepire il futuro in termini purtroppo molto stretti perché i bandi sono usciti adesso, c'è una competizione nazionale e poi ovviamente anche regionale e solo chi presenta schede con idee progettuali può concorrere alla distribuzione di questi fondi che sono fondi difficilmente ripetibili negli anni a venire.